Il primo vantaggio di lavorare in un grande gruppo come quello di Talgas è nel valore della squadra. Il secondo riguarda l'orientamento verso i giovani. Il terzo è lo stimolo del cambiamento, che sia esso culturale, digitale, tecnologico o delle persone. La sensazione di essere all'interno di una grande rivoluzione per il gruppo, il fatto di lavorare all'interno di una transizione energetica che coinvolge tutto il mondo, infine essere all'interno di una realtà che al suo interno è tantissime aziende, gruppi di lavoro e team, dove è possibile trovare il posto in cui esprimere al meglio se stesso. L'opportunità di lavorare per un gruppo che incide direttamente nelle scelte strategiche del paese, l'opportunità di vedere, di imparare attività e business diversi e essere parte di un'azienda che è davvero in forte trasformazione, che sta puntando tanto sui giovani, sull'innovazione e sulle competenze. Il nostro gruppo è il primo distributore di gas sul territorio nazionale. Pensate all'occasione che avremo per il cambiamento e per il futuro dell'energia. Possiamo diventare fautori della transizione energetica. Se vi piacciono le sfide, siete nel posto giusto. Il graduate program di Talgas rappresenta un'opportunità e quindi invito tutti i giovani che vogliono perseguire percorsi di innovazione, di sostenibilità e tutto ciò che ha a che fare con la transizione energetica a partecipare al programma. Se sei un giovane di talento, hai voglia di imparare e hai voglia di prendere parte alle scelte che determinano il futuro energetico del nostro paese, allora il graduate program di Talgas è un'ottima scelta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!